Lei qui alla Cisla durante il suo intervento ha fatto un passaggio sulla manovra, non è soddisfatto del testo che c'è al momento? Ci sono delle cose positive, però si deve migliorare ancora. Noi incontriamo come Anci il Presidente del Consiglio il 27 novembre, quindi c'è un confronto aperto, ci sono emendamenti in Parlamento, noi confidiamo che ci possano stare ulteriori miglioramenti, però non stiamo alla svolta, non stiamo a manovre di bilancio che vanno a cambiare la vita dei cittadini, degli enti locali, delle autonomie, su quello si deve ancora lavorare e fare una grande battaglia politica, che io personalmente farò, faranno tanti colleghi sindaci e che mi auguro.